Ciao a tutti, oggi prepareremo l'omogenizzato di mele e pera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono mele, pere, acqua e qualche goccia di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la mela e le pere. Chiudiamo con il coperchio ed il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Veniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'acqua, qualche goccia di succo di limone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 5 minuti, 90 gradi, velocità 4. A questo punto andiamo a omogenizzare per 20 secondi a velocità 8. L'omogenizzato è pronto, lasciamolo raffreddare e trasferiamolo in dei vaseri. Omogenizzato di mele e pera. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.